e denutriti. Intendo aspettare che si colleghino eventuali interlocutori, nel frattempo procedo con la mia trattazione. Appena possibile vi chiedo di dare un check al comparto audio e di dirmi se si sente bene, perché ho come sospetto che il microfono che usavo in precedenza non sia più tanto funzionale. Quindi fatemi sapere se si sente bene l'audio. Lo metto qui così magari evitato di sbattere sulla maglietta. Allora, ipernutrizione e iponutrizione o denutrizione, che dir si voglia. Premesso che non sono... Ciao Davide, ciao il chimico. Ah, si sente bene? Grande. Ciao Simone. Perfetto. Allora, io con le doverose premesse ricordo anche che il chimico è uno dei miei più esigenti e solerti spettatori. Io non sono un nutrizionista, non sono un medico, non sono un biologo. Sono un umile laureato in scienze motorie con tesi di laurea sulla dieta zona. Intendo qua trattare il discorso nutrizione sotto un aspetto eminentemente pratico e concreto, quindi collegato all'allenamento con i pesi o comunque allo sport in generale, insomma. Ciao Paolo. Domande sono le benvenute, anche fin da subito. Io nel frattempo dico le mie cose che ritengo importanti per almeno affrontare il problema alla radice. Nella scorsa live ho accennato alle ragioni psicologiche, diciamo, per cui una persona tende a stallare, tende a restare stabilmente nella sua propria condizione di peso eccessivo o peso troppo carente. Allora, vale sia per le persone in sovrappeso che per le persone sotto peso. Ci tengo a fare questo discorso in live perché mi interesserebbe anche interagire con i più irriducibili di voi che sono ancora convinti che esista un mix magico di macronutrienti. E lo dico da zonista, io ho fatto una dieta, ho fatto una tesi su una dieta che si basa proprio sulla percentuale di ripartizione dei macronutrienti, i macros, come vengono detti oggi. Nella scorsa live ho detto che le persone in grave sovrappeso arrivano a sviluppare un sistema di autoconvinzione che poi riversano anche sugli altri, quindi loro si autoconvincono e cercano di convincere anche il prossimo che in realtà il loro stile alimentare è perfettamente sano e sono loro da avere dei fattori di sfortuna come le ossa grosse, il metabolismo lento, la tiroide che non funziona, salvo poi fare l'analisi e notare che la tiroide funziona perfettamente. Comunque lo stesso discorso si può anche fare nel versante opposto, quindi verso le persone che sono denutrite. Per denutrite non intendo a livelli da ricovere in ospedale, non intendo parlare qua di anoressia perché è una patologia con degli specifici canali di diagnosi e terapia, quindi io non sono un medico. Parlo del mio settore, settore sportivo, settore allenamento con i pesi, fitness, wellness, allenamento per la forza, eccetera, eccetera. Sento spesso la frase io mangio come un bue, mangio tantissimo ma non riesco ad aumentare di peso. Questo è esattamente il rovescio della medaglia, cioè come le persone in grave sovrappeso o comunque in abbondante sovrappeso ripetono la filastrocca, io mangio pochissimo, le persone in sottopeso dicono la stessa cosa in diametrale, cioè io mangio tantissimo, però ho un metabolismo veloce, brucio anche i sassi, non riesco a mettere peso, poi vai a vedere, mangiano un tramezzino a pranzo, bevono una coca cola la sera con gli amici e questo è il loro bilancio calorico giornaliero. E badate bene che io non sono uno che conta le calorie, io sono più un tozziano da questo punto di vista, diciamo che preferisco valutare l'ADS, cioè l'azione dinamico specifica del cibo, quindi magari usare metodi un po' più precisi come appunto l'indice glicemico e poi anche il peso, cioè la grammatura dei cibi, perché poi quando si vanno a contare le calorie nella dieta bisogna anche considerare quelle che vengono consumate con l'attività quotidiana, quindi bisogna tenere un doppio bilancio delle calorie introdotte e delle calorie bruciate, lavorando in questo modo diventa abbastanza complicato anche stare a dieta. Come dicevo anche nella scorsa live, secondo me la cosa più pratica, più veloce e più precisa è tenere un diario alimentare, che è una solenne rottura di coglioni, perché uno deve praticamente scrivere ogni cosa che mangia ed è una cosa che io magari consiglio di fare per uno, due, tre giorni al massimo finché uno non si rende veramente conto di come stanno le cose, perché quando voi siete obbligati a scrivere tutto quello che mangiate, dall'ultimo biscotto fino al pranzo, passando per la cena, quando siete praticamente obbligati a tirare giù, lì capite come stanno le cose, lì magari una persona in sovrappeso si rende conto di quanti spuntini fa fuori pasto, di quanto mangia veramente lontano dai pasti e al tempo stesso una persona sotto peso si rende molto velocemente conto di quale sia effettivamente il suo introito di cibo, spesso che è sempre molto molto scarso, diario alimentare vuol dire pesare il cibo e poi annotarlo, parlo di cibo consumato ovviamente, perché se vi cucinate due eti di pasta, le mangiate tre forchettate, il resto la buttate, giustamente è un po' una roba da capitano ovvio, però oggi purtroppo capitano ovvio è il più grande degli eroi. Allora, domande, romance, per calcolare il fabbisogno giornaliero bastano peso, altezze ed età? Ma se usi quegli algoritmi, quelle formulette pronte, sì, puoi farlo. Poi è chiaro che io valuterei anche magari l'attività lavorativa, perché se tu di mestiere fai lo spaccapietre, hai un consumo calorico, se fai il casellante e l'autostrada hai un altro consumo calorico. Ciao Ceres, ti chiamo Ceres perché il tuo nome è troppo lungo, non volermene. E il chimico? Una curiosità, quanto pesavi prima di dedicarti all'allenamento? Complimenti per il fisico. Grazie, il chimico, non sono un bodybuilder ma mi fa molto piacere. Io ho cominciato ad allenarmi a 16 anni nella pesistica, poi ho interrotto, poi a 18 anni ho ripreso, mi ricordo che a 16 anni sarò stato forse 70 kg, ero già alto 1,80 m più o meno, poi attualmente sono alto 1,82 m, in alcune misurazioni alla leva ero alto 1,83 m, in ospedale poi quando mi ho ricoverato ero 1,83 m ancora, di recente quanto pare sono calato, purtroppo 1,82 m comunque, vediamo che questa è la mia altezza, quindi se lì sarà stato un differenziale HP meno 10, sì, ecco. Simone Giardino, per un soggetto sottopeso, cazzo, per un soggetto sottopeso, fermo restando un'alimentazione percalorica, considereresti il sistema bulgaro un vibe? Queste sono un po' domande provocatorie, sentivo lì Jim Messio Vicentino che, o Padovano dove sta, come Jim Messio Veneto, diceva che se ti arriva il secco non puoi fargli fare carichi pesanti, perché lo devi addestrare con la tecnica, il volume, il volume, il volume, eccetera, io qua non so neanche perché sto rispondendo, comunque vabbè, allora, che voi siate secchi, che voi siate mesomorfi, che voi siate dei leoni marini, non cambia nulla, bisogna comunque fare la fase di apprendimento tecnico, non si scappa e bisogna conoscere i livelli di forza di partenza e bisogna conoscere la capacità tecnica, cioè quanto uno è bravo nello spostare i carichi, col manico di scopa siamo bravi tutti, col manico di scopa bastano tre indicazioni e siamo bravi tutti, il problema è come il vostro fisico reagisce sotto un carico crescente, appena la tecnica comincia a scomporsi avete individuato un carico che è gestibile, un carico che è il carico limite insomma, un carico gestibile al limite, create una forbice di percentuale e cominciate a creare i vostri primi schemi di allenamento. Io posso dirvi che ho conosciuto ectomorfi tecnicamente molto svegli, molto rapidi, mesomorfi molto ingommati, molto scordinati, endomorfi molto elastici, ci sono persone magari abbondanti di peso anche con un certo adipe ma molto flessibili, ogni caso è a sé stante. Sicuramente l'allenamento va personalizzato, ogni mio cliente ha sempre un approccio diverso dall'altro, io credo fermamente nella personalizzazione ma questa storia della personalizzazione non va incasellata a seconda del morfo tipo, ci sono mesomorfi coordinati, con una grande intelligenza atletica, con una grande intelligenza motoria scusate, e mesomorfi che sono sì grossi ma sono un po' degli scimmioni, fanno fatica a coordinarsi, hanno una bassissima intelligenza motoria, un bassissimo cui motorio come lo chiamo io e lì c'è poco da fare, hanno lo stesso morfotipo ma hanno delle fasi e delle tempistiche di apprendimento completamente diverse. Ceres, come me ultimamente fai video con, ah sì, ultimamente faccio dei video con delle serie, perché dopo essermi disintossicato da le schedine colorate di Zeofester e dopo aver fatto la definizione estiva, ho avuto questa doppia botta, questo 1-2 che mi ha un attimino messo KO e per ricominciare, anch'io come tutti, devo purtroppo passare da delle fasi di volume di rifinitura e al momento sto cominciando anche ad apprezzare queste fasi di rifinitura, quindi ogni tanto, anche per dimostrare che non faccio soltanto singole, perché è un equivoco che mi dava anche fastidio, metto delle triple, delle quadruple per dimostrare che non vado avanti soltanto a singole, perché qualcuno definiva il mio metodo MAV1 fatti a cazzo. A parte che il termine MAV penso che si usi soltanto in Italia, dici MAV a Yuri Belkin non sa neanche di dove stai parlando, ma d'altronde quando chiedevo a Belkin cosa fosse il protocollo small of lui neanche ne avevo mai sentito parlare, comunque per risponderti metto queste serie per far capire che posso gestire anche carichi reiterati. Tutto qui. Oddio scusate, sono davanti all'obiettivo. Io domando scusate se perdo qualche domanda, io cerco di rispondere a tutti. Simone Messeri, ciao Marco, ma se un soggetto molto alto viene di solito considerato svantaggiato nelle varie alzate, via delle sue leve, non è anche vero che egli potrebbe però potenzialmente pesare di più. Assolutamente sì, certo. Thor Bjornsson, quello che ha staccato 501, non ha delle grandi leve per lo stacco, ma pesava 190 kg di muscoli. Cioè, era un differenziale di, non so, di 90 kg. Positivo. Non so esattamente quanto pesasse Bjornsson, comunque era oltre i 165, se ricordo bene. L'Ashat Alakaz è alto oltre 1,90 m e pesa sui 168 kg. È chiaro che uno scheletro più grande può ospitare tanta più massa muscolare. I piccoletti invece spesso se la giocano nelle categorie di peso, cercando di ottimizzare il rapporto peso-potenza. Uno come Thor Bjornsson non deve ottimizzare nulla, è una pertica e è alto quasi 2 metri e pesa sui 100, se ricordo bene, 190 kg quando ho fatto il record dei 500 e 1 di stacco. Mi correggano i suoi fan, i suoi follower, non vorrei far torto a nessuno. Ciao Marcus. Allora, steroidi 360. Come la vedi una programmazione con uno per uno più cingoli? No, questo non posso farlo. Devo conoscere tutto il tuo storico, devo sapere con che attrezzatura ti alleni, devo fare tutta l'anamnesi, se no avrebbero ragione quelli che dicono che faccio massimali a cazzo. Io ho dei clienti che ho approcciato con degli schemi di una banalità assoluta, tipo il 3x10 in alcuni casi, peraltro io ho alcuni clienti, ho cominciato a seguirli usando soltanto le macchine, a ogni caso è a sé stante. Fatti fare l'uno per uno più il 5x8, sarei un kamikaze, non sarei neanche professionale. Obelix 60, come si fa ad avere una voce così profonda? Ma è la mia voce, io so di non essere esattamente... non ha una voce magari... Boh, non lo so, non ci ho studiato, alcuni mi dicono che ho la voce di Adriano Celentano, non lo so. Forse potrò fare il cantante, di sicuro. Celentano ha fatto più successo di me, penso. QWI, cosa ne pensi della Carb Cycling? Mi sembra una strategia molto intelligente. Non posso entrare nei dettagli, non essendo un nutrizionista, però l'ho praticata con profitto l'anno scorso, 2020. Mi sono trovato piuttosto bene. Marcus, se canti De Andrè, penso che viene un capolavoro. Sì, penso che spacco le finestre, non so cantare. Però grazie per la stima. Andrea Girolami, buongiorno Marco. Per decidere il fabbisogno alimentare, io sono estremamente attento ai valori di pressione arteriosa. Buono? Sono d'accordo con te. Ho notato che gli ipertesi sono tendenzialmente nervosi. C'è prova scientifica? Prove scientifiche al momento non ne ho sotto mano, però... Una persona che ha una vasocostrizione abbastanza importante, si tende a somatizzare un certo nervosismo. Quindi ovviamente vi dirà il medico di evitare il sale e comunque consultate il medico. Però la tua è un'osservazione molto importante. Io sono vegano anche per il discorso colesterolo. La dieta senza colesterolo è la dieta vegana praticamente. Una persona che ha magari delle placche ateriosclerotiche e ha una pressione più alta, può avere dei risentimenti anche sull'umore. Potrebbe essere. Non ne ho la prova, non ho studi sotto mano, ma la tua osservazione mi sembra piuttosto interessante. Mattia, 7405. After pesava 200 kg quando ha fatto 501. E oggi nel pugilato ne pesa 155. Cos'è? Basso? Quanto è alto, perdonami se posso disturbarti. Mattia, mi pare che fosse alto quasi due metri, ho sbaglio. Intorno a due metri comunque. Corregimi se sbaglio. Enrico Massocco. Come calcolare il fabbisogno? Allora, ci sono... Si, ma anche quest'estate, però va a fine l'altro caldo. Oggi non ho messo il clima. Tanto siamo a settembre, pensavo. Infatti sembra di essere in un forno. Allora, vabbè, ormai sono in live e la metto dopo. Allora, come calcolare il fabbisogno calorico? Ci sono sicuramente tanti algoritmi, delle app, tutto questo. Però se volete fare un lavoro preciso dovreste tenere un diario alimentare. e vicino ai grammi di cibo e vicino alla composizione dei macronutrienti segnarvi anche le calorie. Purtroppo è un po' come i frati Emanuensi. Mi rendo conto che è un sistema abbastanza palloso, però è molto preciso. Io vi consiglio questo. Se c'è un'app che vi fa questo lavoro qua, meglio. Se c'è un'app sulla quale avete un'app, scrivete oggi ho mangiato questo, quante calorie sono. E' più comodo, eh. Intendiamoci. Buongiorno, Ces. Ces Simone. Alex, After Bioson, 2,03 m. Ecco. Direi che ho detto tutto. Anzi, hai detto tutto. Simone Messeri. Inizialmente guardavo di traverso il veganesimo, ma ora, soprattutto per questioni di ecosostenibilità, ho iniziato a fare qualche pensierino sulla plant-based. Simone Messeri. Io qua non voglio passare per militante, perché non lo sono. Ti dico soltanto che io sarei vegano, anche se di mestiere facessi il macellaio, il torero, il cacciatore. Sì, la dieta vegana è sicuramente più sostenibile, più ecosostenibile. Basta pensare alle aree disboscate per far posto agli allevamenti. Basta pensare in alcuni stati americani, c'è il problema dell'inquinamento delle falde acquifere, per gli escrementi dei bovini ecosostenibile. Sì, poi tenete conto che per produrre un chilo di carne servono migliaia di litri di acqua. Per avere uno spettro amminoacidico analogo partendo dal mondo vegetale servono molti, molti, molti meno litri di acqua. Diceva Gary Jurovsky che è assurdo prendere dei nutrienti filtrati dal corpo di un altro essere vivente. visto che non siamo carnivori, visto che abbiamo la mandibola che si muove lateralmente, che possiamo masticare il cibo, direi che forse è il caso di almeno valutare questa cosa. Almeno valutare, non sto parlando di gastronomia, e pregherei i famosi anti-vegani di non sognarsi neanche di intervenire in queste live. Se sento ad vegano, stammi lontano. Mi cucino la salsiccia alla faccia tua. Prendete armi, bagagli, e catapultatevi a fare in culo. Io con voi non ho nulla a cui... Cioè, non mi interessa il vostro parere, non voglio parlare con voi. Allora. Nicola Zicari. Vabbè, Wikipedia. Thor 206, di altezza. Va bene. Va bene. Gian Colla. Cosa ne pensi dell'energia nucleare? Perdonami, stiamo un po' deragliando, vorrei restare sul tema alimentazione, denutrizione e ipernutrizione. Al momento preferisco concentrarmi su questo. Gianni Morandinix. Anch'io ho iniziato ad apprezzare il veganesimo quando ho visto Zio Fester e Jim Messio mangiare assieme. Io mi sono ovviamente risparmiato questo truce spettacolo. Non intendo neanche guardarlo, ma poi, guarda, francamente... Non voglio usare il turpiloquio, ma, insomma, per stringere. Chi si somiglia, si piglia. Ma d'altro gente così non ha nessun tipo di scrupolo. L'egoismo della specie umana a volte mi disgusto. Mi disgusta profondamente. Allora, Romance. Sono affidabili le app come Iazio e Fitness Power, secondo te? Allora, più un'app è tecnologica, più ti consente un monitoraggio preciso. Poi il resto è una questione di interfaccia. Si trovi bene, se riesci a inserire bene i dati, se c'è un output abbastanza chiaro. Io ti dico, cerca sempre di fare un lavoro di inserimento dati preciso. Alcune app non riconoscono alcuni cibi, non sanno le grammature, le ripartizioni in percentuali di alcuni cibi, però io onestamente non uso le app, quindi non vorrei neanche fuorviarti. Cerca un'app che abbia una buona interfaccia, un buon output, e una vasta gamma di cibi da analizzare, scomporre e poi calcolare. Allora. Marco S. Come imposti la tua fase di massa? Generalmente manipolando i carboidrati. Alza un po' di più i carboidrati, soprattutto in prossimità del training. Comunque non mi piace fare fasi di massa in cui arrivo a essere un cinghiale. Io l'anno scorso nel lockdown ho avuto un sovrappeso più marcato del solito, non mi piacevo. Quest'anno sono arrivato a essere altrettanto pesante, ma più forte, quindi c'era comunque una miglior distribuzione del peso. A me non piace sinceramente arrivare troppo grasso, perché fare un lavoro troppo abbondante in inverno e poi dover tirare la cinghia per un mese e mezzo in estate è una cosa che non consiglio. Però è la mia opinione, io non voglio parlare di bodybuilding, diuretici, farmaci per tirarsi, perché io essendo natural non ne so nulla. Silvio Rosignoli, ciao Marco, quali sono i legumi o cereali più ricchi di proteine? Allora, legumi o cereali più ricchi di proteine? Io ti consiglio di comunque mixare cereali e legumi. Il legume nello specifico più ricco mi pare che sia il fagiolo rosso, ma non vorrei sbagliarmi, perché non ho sotto mano le tabelle alimentari. Forse qua ho il libro di Di Pasquale, di Di Pasquale, puoi consultare anche tu, anche comunque controllare le tabelle su Google, adesso qua non riesco, non mi ricordo dove è la tabella. Comunque, guarda, in tutti i libri di nutrizione, in tutti i libri di dieta, ci sono queste tabelle qua, che hanno praticamente tutti i riferimenti sui macronutrienti, le calorie, eccetera, eccetera. Puoi anche fare delle ricerche ad hoc su internet, io purtroppo al momento non riesco a smocciolarti i valori esatti, domando scusa. Allora, Sigrosignoli ti ho risposto. Michelangelo Corsari, io avevo pensato di diventare vegetariano, più che altro volevo evitare di mangiare mammiferi, soprattutto i maiali e le mucche, che sono animali intelligenti, però non vedo il problema con pollo e pesce. Boh, almeno hai iniziato a farti delle domande. Se tu vedessi come vengono allevati i polli, penso che ti faresti anche lì altre domande. Se tu vedessi come vengono allevati i pesci, in particolar modo i salmoni d'allevamento, penso che anche lì faresti delle riflessioni, però intanto hai cominciato a farti delle domande, che è già qualcosa. Quindi prendiamo il buono. Ale Dagro, cosa ne pensi del digiuno intermittente? Io ho notato un dimagrimento migliore mangiando tutti i pasti completi. Quando digiunavo non riuscivo a perdere peso nello stesso modo. Ma io consiglio sempre un'alta frequenza nei pasti, che siate in definizione o che siate in massa, io consiglio sempre, comunque una certa frequenza. Ma la stessa cosa la consigliano anche i dopati. Io vi ricordo Michael Ernst, si può considerare dopato, che diceva che non ha senso ammassare tutto il cibo in un pasto singolo e poi digiunare per le seguenti 12 o 24 ore. Per me è molto più sensato fare tanti piccoli pasti, però vado a buon senso, perché ti devo anche dire che con il digiuno intermittente io conosco una persona che con il digiuno intermittente ha avuto perde di peso molto importanti, molto significative, però in concomitanza con una perdita anche di forza muscolare piuttosto ingente. conosco un ragazzo della mia città natale di Verona, oggi vive in Cina, Manuele, anche saluto, Manuele, mi pensavo sui 103-104 kg, faceva 110 kg di panca piana, però si vedeva grasso, ha deciso di puntare tutto sull'estetica, sulla dieta, ridurre il peso, con il digiuno intermittente lui fu ispirato da Kino Body e dal Dr. Greger, mi ricordo. lui col digiuno intermittente è sceso a 79,5 se ricordo bene, comunque ecco 80 kg scarsi, devo dire che sta molto bene, è chiaro che non fa più 110 di panca, vabbè che lui non è mai stato un panchista più che altro sul wellness, sulle arti marziali, sul fitness, però il digiuno intermittente come arma d'urto, diciamo, come arma di incursione è molto buona, è molto efficace, io ripeto, preferisco un approccio più distribuito sui pasti, un approccio ad alta frequenza. Marcuzzi, mangio soltanto il pesce tipo tonno o rata, i maiali e le mucche hanno un'empatia simile alla nostra, ma i pesci no. Il tonno non mi fa pena sinceramente, ma se tu vedessi una tonnara come ammazzano i tonni dopo aver ripescati, li insano su una gru, poi li uccidono a colpi di macete praticamente, è uno spettacolo della capricciante, ti posso dire che anche il sangue dei tonni è rosso, hanno un sistema del prodotto centrale e vengono uccisi in modo terribile. Poi, già buono che ti fai delle domande, già buono che cominci a mettere un po', però io non voglio neanche evangelizzarvi ragazzi, io ho la mia opinione, a chi è interessato la dico, poi io non voglio evangelizzare nessuno, non sono un profeta del veganesimo. Silvio Rosignoli, cosa ne pensi invece della pasta kamut rispetto alla pasta tradizionale? Allora, io ti consiglio sempre di consultare la griglia degli ingredienti, dei nutrienti, cioè capire la composizione della pasta kamut se è confezionata, di solito le confezioni hanno la griglia a vista degli ingredienti e dei macronutrienti, quindi quanti carboidrati, quanti grassi, quante proteine, quante fibre sono contenute per 100 grammi di prodotto, intanto guarda quella roba lì. Se parliamo di gusto, io sono il tipico italiano medio, mi piace la pasta barilla, mi piace la pizza napoletana, le robe integrali non mi piacciono più di tanto, preferisco le robe tradizionali, però qua si parla di palato. Marco S. Quindi gli addominali in copertina li hai ottenuti senza esercizi specifici? Sostanzialmente sì, per l'oblico esterno io ci ho lavorato indirettamente facendo un esercizio di antinfortunistica per l'anca che coinvolge anche l'oblico esterno, però io posso dirti che avevo quel tipo di oblico lì anche prima di fare quel lavoro di antinfortunistica. Io non ho sostanzialmente mai lavorato in modo specifico sull'addome perché avendo effettuato dei test sul campo che sono anche documentati su YouTube, ho fatto anche dei video, ho capito che ero molto forte nel compatto addominale senza dedicargli esercizi ad hoc. In particolar modo per chi si allena col mio stile l'oblico esterno viene pesantemente stimolato. Io inoltre sull'oblico esterno faccio un lavoro che non è specifico per l'oblico esterno ma che coinvolge anche l'oblico esterno. È un esercizio molto importante per me di rinforzo articolare sull'anca. Bleggi ho visto come ammazza gli animali non è un bello spettacolo rimango onnivoro ma credo che essere vegani sia una nobile scelta. Se non altro anche tu cominci ad aprire un po' un po' le vedute. Comunque hai ragione non è un bello spettacolo Alberto Berto buongiorno Marco chiedo scusa per la domanda dell'off topic ma quanto chiedi per il servizio di coaching? Io di solito discuto con i prezzi in privato perché il preventivo non lo posso fare in pubblico devo valutare il cliente quanto vuole far durare l'ingaggio non do tariffe non spiattello in pubblico le tariffe a parte che ho sempre fatto il personal trainer io mi chiamo Marco Pt mi ero messo su youtube tre anni fa perché sinceramente non riuscivo a stare zitto su alcune cose a me piaceva l'idea di poter comunicare volevo dire la mia insomma ecco in modo magari sommesso o pacato però io non ho mai fatto youtube per propormi come coach online però devo dire che il coaching online mi viene molto bene mi piace il mio modo di lavorare mi piacciono i risultati che produce e quindi sono felicemente passato a fare anche il coach online io di base nasco come personal trainer sul campo quindi mi sono formato sul campo ho cominciato da professionista in una grossa catena del fitness e poi pian piano mi sono evoluto anche sul coaching online ma sempre partendo da una cosa molto concreta quindi io sono partito subito fin da subito con partita IVA lavoravo in divisa c'era un codice etico in un'azienda in cui lavoravo dovevo confrontarmi con colleghi clienti attrezzature condivise ho dovuto imparare ho dovuto studiare tecniche di comunicazione tecniche di linguaggio paraverbale ho dovuto fare un grosso upgrade personale fare grossi progressi personali poi sinceramente passare al coaching online per me è stato abbastanza facile anche perché avevo fin da subito le idee molto chiare su come gestirlo poi sono arrivate le tariffe flat queste cose qua ho incorporato anche altre forme di pagamento ma sarò lieto di discutere con te se vorrai ingaggiarmi o comunque contattarmi e il chimico qualcuno chiede 400 al mese per far perdere 40 kg di massimale in punk minchia remida al contrario quello che tocca diventa merda pazzesco io so che Yuri Belkin ha una tariffa molto alta Yuri Belkin no ma non è giusto non voglio parlarne a parte che con Yuri Belkin non perdi 40 kg ma no non voglio divulgare i prezzi di Yuri domando scusa però cazzo 400 euro per perdere 40 di punk cazzo 40 euro al chilo praticamente il macellaio Ertolo hai fatto benissimo dire la tua hai alzato parecchio il livello ti ringrazio Ertolo mi ricordo di te Giuseppe ti chiami mi dicono che YouTube è cambiata da quando sono arrivato io spero non in peggio YouTube è cambiata il settore YouTube underground è cambiato da quando sono arrivato io e spero non in peggio io non sono mai finito in tendenza su YouTube in vita mia ovviamente ma che sembra che me la tiro il chimico 10 euro sì 10 euro al chilo scusa sì 400 diviso 40 si fa 10 rincoglionito scusa ma tu sei terribile il chimico cazzo io se dovessi avere un socio saresti tu io ti delegherai un sacco di lavoro che con la mia testa di cazzo non riuscirei a fare Marco forse riuscirei a distaccare il sistema italiano dalla mappazza sovietica ed avvicinarla a quella di altri paesi tipo Cina e Giappone è una bella no l'Italia secondo me è sportivamente succube totalmente di questo tipo di protocolli almeno secondo la mia percezione poi non voglio parlare di nello specifico ma io ho l'impressione che questa sia una cosa assolutamente fuori dalla portata di chiunque ci ha provato Tozzi è impossibile sono soltanto contento che quest'anno gli europei e le olimpiadi mi hanno fatto buone cose non conosco in dettaglio la tecnologia di allenamento usata quindi non posso neanche fare valutazioni ma poi io non non è la mia guerra ragazzi non è la mia guerra io ho semplicemente parlato di un signore bulgaro che si chiama Abagiev che ha preso i protocolli degli anni 50 60 li ha strappati si è fatto i suoi e ha vinto molto poi dicono che il mondo si è evoluto dai tempi di Abagiev a me sembra che prima e dopo Abagiev la roba sia sempre quella era uguale prima ed è rimasta uguale dopo l'unica persona ad essersi differenziata secondo i miei studi è stato Abagiev ma anche qua non voglio convincere nessuno non voglio convincere nessuno fate quello che volete io ho le mie idee me le tengo non voglio fare il crociato io riporto quello che ho letto parliamo di dieta che è meglio sì giusto non usciamo bravo Gustavo allora 200 grammi di carne rossa 400 bianca a settimana è un dosaggio a settimana a settimana io so che Enrico Ratti fa mangiare 700 grammi di pollo al giorno a trotta e trotta non è in fase di massa adesso te lo garantisco questo è un'ottima possibilità un'ottima opportunità per parlare proprio di denutrizione e quant'altro una cosa buona di Flex Magazine che io compravo quelle riviste patinate con quella carta lucida una delle cose buone è che quelle riviste lì pubblicavano anche le diete dei campioni io mi ricordo quello che mangiava Mike Matarazzo cioè lui mangiava a pranzo 300 grammi di manzo a cena 300 grammi di pollo cioè erano 60 grammi di proteine a pasto e su Flex ti dicevano sì alcuni sostengono che al massimo ne puoi assimilare 30 grammi al colpo di proteine però io ho un metabolismo fortunato e quindi ne assimilo 60 cioè se voi guardavate quello che mangiavano i campioni di Flex Magazine cioè la quantità che tu mi hai indicato è giornaliera non settimanale Gustavo Ramon integro con le whey sì buona fortuna come dire integro con le whey ho una gomma forata però ti metto il cerotto sopra il cerotto quello per le ferite a parte che integrare con le whey è una cosa che io non ti consiglio se devi integrare con una polvere proteica ti consiglio altre fonti ti consiglio un vegan blend anche per proteggerti a livello come direbbe venturato di organi e montori io ti dico più in concreto le proteine del siro sono piuttosto acide e i tuoi reni rischiano di andare a filtrare troppo calcio e cominceresti forse a produrre ossalato di calcio mi fermo qui perché non sono un nutrizionista Ertolo sono numeri da pivello mangia mangia vado una carbonara grande Ertolo Andrea Patuzzo infiammazione anche ginocchio stacco sumo è un classico Andrea capisco perfettamente capisco perfettamente lo stacco sumo all'inizio va masticato e all'inizio ti morde le anche e anche le ginocchia perché mancando ecco questo è il grosso equivoco la gente è convinta che basta che la tecnica sia a posto io sono sicuro che la tua tecnica è nei parametri non dico perfetta ma sono sicuro che la tua tecnica è buona il problema è che tu non hai abbastanza muscolatura nei punti giusti per impedire le articolazioni di andare in sovraccarico le persone che in panca piana aprono i gomiti fanno questo quando spingono perché non hanno abbastanza pettorale e allora scaricano sul deltoide per fare la panca fanno questo anziché fare questo è una questione di adattamento muscolare lo stacco sumo è un esercizio sul quale io non ho mai preteso carichi pesanti io sullo stacco sumo faccio fare periodi di addestramento di apprendimento talmente lunghi che a volte durano un meso ciclo bisogna avere il tempo di costruire tutti i muscoli tutti gli anelli nella catena cinetica dello stacco sumo quando quegli anelli lì sono tutti a posto lo stacco sumo diventa un'accosciata fondamentale stacco sumo è forse l'accosciata basilare mi spingo a dire questo quando tutti gli anelli della catena cinetica del sumo sono ben costruiti lo stacco sumo sarà un vostro prezioso alleato Giovanni S ho provato mille protocolli ho visto tra quelli che hanno funzionato meglio fare una multifrequenza basse ripetizioni alti carichi una sola seduta dal terap si parla ancora di multifrequenza ragazzi capisco il tuo punto di vista hai provato ad allenarti con uno stimolo un po' più frequente ma in realtà si dovrebbe si dovrebbe si dovrebbe parlare di bassa frequenza e alta frequenza multifrequenza mi sembra una roba più inerente al mondo degli elettrodomestici di poi di aspirapolveri multifrequenza non lo so fa caldo oggi Andrea Patuzzo prego sempre un piacere Marco Contu mangiare pollo ogni giorno a pranzo può fare male ma dipende se mangi carne variata si scherzo io non mangio pollo comunque introdurre proteine animali quindi proteine che acidificano a ritmo costante tutto il giorno secondo me non è un tocca sana poi io qua mi devo fermare perché sennò divento nazi vegano divento un cazzo di cos'era un estremista la rabbia dei vegani e francamente non non intendo proseguire e il chimico tecniche puntigliose volumi elevati alimentazione ad capocchiam sono i segreti per regredire dei massimali ho incazzato il chimico io il chimico io sottoscrivo anche le virgole di quello che è scritto io sottoscrivo tutto perfetto perfetto big up per il chimico Nicola Zicari polpacci spaziali Matarazzo ma morto a 49 anni davvero un peccato bodybuilder fantastico io mi ricordo di Mike Matarazzo origini italiane era penso il bodybuilder con i polpacci più grossi i migliori comunque per carità ricordo anche Yates ottimi polpacci Jay Cutler ottimi polpacci ma Mike Matarazzo era famoso per i polpacci erano due due rombi proprio a spigolo erano molto particolari come forme dichiara origini italiane Mike Matarazzo veramente enorme ricordo di aver sentito che prima di morire lui mi lasciò un'intervista o scrisse due righe dicendo che chi me l'ha fatto fare di trovarmi in una stanza d'albergo con il medico le flebo per aver giocato con i farmaci io non lo so comunque io mi ricordo di Mike Matarazzo perché leggevo le sue diete su Flex Magazine all'epoca avevo 18 anni vivevo ancora con i miei genitori chiedevo mia mamma mi fai da mangiare questa roba qua ovviamente ricevevo delle sonore pantofolate sulla testa riposi in pace Mike Gabriele Carrara scusa Marco ma per assumere un buon quantitativo di proteine da fonti inanimali come fai? ottima domanda giusto legittima e logica obiezione attualmente sto utilizzando tofu e frutta secca il tofu è molto ricco di proteine e la frutta secca va a completare va a integrare lo spettro aminocidico oltre a quello Iso Vegan Pro Nutrition Vegan Protein ok? quindi proteine vegane in miscela in blend della Pro Nutrition la marca è la Pro Nutrition il prodotto si chiama Iso Vegan barattoli su barattoli shaker su shaker così uno vi idratate due prendete gli amminoacidi avete un flusso di amminoacidi costante quindi tofu frutta secca e Iso Vegan integratori se vi serve il codice sconto io collaboro con un negozietto qua di Brescia un negozio anzi no negozio ormai si è anche espanso un negozio di Brescia sito internet per chi non è di Brescia www.proteinstore.it se vi può far comodo risparmiare qualche spicciolo ho anche un codice sconto del 10% Marco PT55 se invece volete finanziare la vostra economia di quartiere avete un negozio di fiducia continuate ad andarci tranquillamente Silvio Rosignoli consiglia la frutta nell'alimentazione giornaliera se sì quante quale la frutta è meravigliosa io però e non voglio sbilanciarmi ho come l'impressione che negli ultimi 10 anni 15 anni sia più che altro una miscela di acqua e fruttosio secondo me la frutta di oggi ha perso tante delle sue meravigliose proprietà forse sono forse mi sbaglio ma non so mangiare una mela oggi una fragola oggi mi sembra di mangiare un ghiacciolo alla fragola sento questa frutta un po' acerba priva di gusto priva di sapore magari mi sbaglio io comunque insomma la frutta è molto ricca di acqua ha tante fibre ha il fruttosio che è comunque un carboidrato veloce a basso impatto glicemico a basso indice glicemico quindi comunque resta pur sempre una buona fonte energetica cosa sto bevendo questo è un succo ai mirtillo con dei minerali cioè molto caldo domando scusa se sto sudando purtroppo è salito l'ultimo afflato di estate a incenerirmi sono qua in salotto speravo di vabbè no comunque è un banalissimo succo e mirtillo ma più che altro io non è che bevo perché ho sete quando parlo per rispetto nei vostri confronti vorrei evitare di tossire sputacchiare raschiarmi la voce mi tengo idratata la gola così parlo meglio ecco per chi ha la pazienza di ascoltarmi Ertolo domanda importante concentrazione di proteine se rimetto le proteine ho uno stomaco particolarmente debole secondo me prendi proteine scadute a me è capitato di vomitare dopo aver mangiato proteine scadute ricordo che una mia cliente mi regalò delle sue proteine scadute e dopo averle ingerite in forma liquida vomitai quasi subito analizzai il sacchetto e vedi dei vermi dentro la giuro non sto scherzando vermi che addirittura saltavano bianchi ricordo che affondai la mano e vedi questi vermi sulle dita che facevano lo zompo da una falange alla nocca una cosa abbastanza strana perché ovviamente il prodotto l'ho buttato io posso dire che la spiegazione che mi viene in mente è questa che ti abbia preso un prodotto sostanzialmente variato insomma ecco daniele scapine se una persona ha la possibilità di allevare le galline a casa con conseguente produzione di uova ma per carità ma se uno ma se uno ha delle galline se uno di mestiere fa il fattore ma ci mancherebbe altro io non so mica qua a puntare il dito basta che gli animali siano trattati con un minimo di cristiana compassione di umana carità va bene tutto poi non lo so ragazzi io non voglio ripeto non sono un militante non sono un nazi vegano in ogni punto di vista se una persona tratta con rispetto anche il bestiame diceva la bibbia l'uomo giusto ha pietà del bestiame mac tagliatelle marco domanda imbarazzante per me spesso soffro di diarrea è un problema in ambito bodybuilding hai dei consigli a riguardo di gastroenterologo gastroenterologo e poi nutrizionista io ho avuto episodi di diarrea io ebbi episodi di diarrea quando comprai una busta di elettroliti da una ditta low cost io ho presi questi elettroliti ad alto dosaggio presi elettroliti a massicce concentrazioni e ogni volta che bevevo quel prodotto subito dopo andavo in bagno niente di debordante però comunque capì il collegamento forse potrebbero essere elettroliti in eccessiva quantità o concentrazione per elettroliti intendo i banali sali magnesio potassio calcio eccetera nicola zigari c'è frutta e frutta marco l'ananas banale mango mangiate in tailandia sono un'altra vabbè un altro livello di gusto il frutto del drago lo conosci se ricordo bene si è quello con le spine se ricordo bene non vorrei sbagliarmi tailandia è un popolo affascinante i tailandesi sono un popolo affascinante perlomeno la storia poi oggi non so come stiano le cose ma il golfo del siam bersagliato da invasioni dai kmer lautiani cambogiani un popolo fiero che ha resistito alle invasioni utilizzando il krabbi krabong e il muay thai ok 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 è finito sono patetico scusate il couscous è un buon sostituto alla pasta di iso si leggero facile da cucinare lo mangio anche io ogni tanto il couscous matteo i volumi alti sono deleteri per i muscoli se si quali sono più o meno i range da seguire settimanalmente allora per il range di ripetizioni dipende dal periodo in cui ti stai allenando durante l'anno ci sono dei range che vanno tenuti tutto l'anno e altri range che sono variabili poi l'alto volume non è di per sé dannoso il volume come dico sempre è il piombo la frequenza è l'oro quando la frequenza non riesce più ad arrivare a certi livelli si compensa col piombo e qua mi fermo perché sennò poi scatta il tipo di quelle piramidi di Kelms basta Obelix cosa ne pensi di Nick il cattivo chi cazzo è Marco Matteo Auletto domando scusa no un attimo solo apparsi delle domande qua Gianni Morandinix cosa ne pensi dell'apporto proteico degli yogurt sono proteine della caseina sostanzialmente proteine della caseina quindi si lento rilascio vabbè ma parli con un vegano cosa devo dirti Daniele Scapin le galline hanno 400 metri quasi di spazio e mangiano quello che vogliono non preoccuparti questo mi fa piacere c'è frutto e frutto Marco si ok già letta ok ok ci sono ci sono ci sono Quazar ti piaceva la pasta con tonne e pomodorini si gli spaghetti con tonne e pomodorini buoni Alessandro Faccin la creatina va presa in modo continuativo 3 grammi al giorno post workout oppure carico scarico grazie la creatina ragazzi non va presa allora ti dico quando ero scienza motoria feci un esame che si chiamava storia del doping e ai miei tempi prendere più di 3 grammi al giorno di creatina era doping quindi se tu prendevi oltre i 3 grammi al giorno eri un dopato poi non so se abbiamo tolto questa regola io comunque in tempi recenti sono anche arrivato a prendere 10 grammi al giorno di creatina secondo me secondo la mia esperienza il rapporto ottimale è utilizzare un decimillesimo del peso corporeto se tu pesi 100 kg ne prendi 10 grammi se pesi 80 kg ne prendi 8 grammi però è la mia opinione non ve la sto consigliando questa cosa qua è la mia opinione ripeto non sono nutrizionista non ho titoli per parlare per quanto riguarda lo scarico io consiglio di staccare la creatina se andate in vacanza un mese non avete neanche la palestra la siete magari in un'isola sperduta a godervi il sole non prendetela in mezzo alle grammature e ai dosaggi della creatina io non vi sto consigliando nulla io sono andato anche oltre i 3 grammi di creatina al giorno non ho avuto nessun effetto collaterale se poi divento un dopato per questo non so cosa dirvi Daniele Davide Paccione quale integratore reputi più efficace per il recupero muscolare più che l'integratore io consiglio una buona ricarica energetica con i carboidrati dopo di questi la glutamina la glutamina ha tanta roba la glutamina molti ci sputano sopra ma io con la glutamina ho avuto anche un beneficio sul sonno con la glutamina ho avuto anche benefici proprio nel riposo notturno dormivo meglio l'attività onirica era più come dire scorrevole cioè adesso io ho letto degli studi ho letto dei riferimenti scusate bibliografici secondo i quali con la glutamina l'attività onirica è più accentuata cioè i sogni insomma sono un po' più un po' più stabili un po' più lucidi si ricordano meglio l'attività onirica più fluida insomma ecco comunque in generale tagliando corto la qualità del sonno migliora molto quindi uno è un amminoacido molto importante per i muscoli due è molto importante per il sistema immunitario intestinale e tre migliora la qualità del sonno e dell'attività onirica quindi magari se soffrite di stress post-traumatico sindrome da stress post-traumatico avete difficoltà a dormire fate incubi terribili la glutamina potrebbe aiutarvi consultate sempre dei riferimenti scientifici bibliografici consultatevi anche con un medico se serve la mia esperienza personale è questa romance turchesterone eccoci qua il turchesterone turchesterone mi viene in mente la Turchia Istanbul integratore reso famoso per fini commerciali e realmente funzionante io posso dirti che dal punto di vista del boost testosteronico io ho provato il tribulus terrestris a livello di muscolatura non ebbi nulla forse legato ad un effetto placebo ebbi più reattività nella sfera sessuale ma ti tengo anche a dire che non ho mai avuto un'attività frenetica da questo punto di vista comunque il turchesterone non l'ho mai provato posso dirti per l'esperienza che a livello atletico performante muscolare queste saponine queste molecole vegetali non sono neanche paragonabili agli steroidi anabolizzanti neanche lontanamente paragonabili poi io qua sono un umile un umilissimo natural se tu conosci qualche fruitore qualche utilizzatore di steroidi anabolizzanti potrai chiedergli tu stesso un'opinione sul turchesterone e ti risponderà più o meno in modo simile al mio però ti ripeto lui può parlare perché ha provato anche i farmaci io non ho mai provato Matteo Auletta e dei mass gainer cosa ne pensi? molto molto abbondanti in carboidrati i mass gainer sono appunto mass gainer cioè gain guadagno ti fanno guadagnare massa però dipende da che massa guadagni i mass gainer hanno una percentuale proteica del 30% di media e una glucidica del 60% e il restante sono lipidi se ricordo bene il vantaggio dei mass gainer è che hanno un gusto magari più buono perché sono più ricchi di carboidrati quindi subiscono molta meno aromatizzazione forse però la frazione proteica è molto bassa ed essendo così ricchi di carboidrati tendono chiaramente ad alzare l'insulina e quindi tutto quell'eccesso di zucchero non depositato nei muscoli va prima nel fegato e poi nei substrati adiposi quelli sottocutanei aspettate un secondo l'ultimo 5 minuti quasar wireman secondo me i mass gainer sono soldi buttati e basta ma certo se uno sa allestire i pasti uno sa organizzare i pasti con glucidi proteine è chiaro che il mass gainer è una soluzione di comodo poi devo anche dire comunque i mass gainer sono dolci come gusto sono sempre dolci io non riuscirei a fare un pasto dolce io preferisco un pasto salato e l'integrazione eventualmente dolce ma se uno fa un sostitutivo del pasto un mass gainer che sa di cocco che sa di fragola che sa cazzo a me piace mangiare salato nei pasti principali e poi dolce negli spuntini al limite c'è resto collagene e acido ialuronico e glucosamina allora io ho provato cicli su cicli di glucosamina per vedere se le cartilagini avevano un beneficio non ho mai riscontrato alcun beneficio anche perché le cartilagini non vengono bagnate dal sangue se non in alcuni piccoli punti come mi fece notare un mio follower comunque non c'è un trofismo cartilagineo post romano nel senso che se vi fessurate un menisco se vi si consuma una cartilagine poi non vi ricresce insomma ecco questo discorso anche se voi mangiate una tonnellata di glucosamina gira nel sangue ma dal sangue la cartilagine non arriva insomma se non in modo molto superficiale e non sufficiente a garantire un ritrofismo della cartilagine un neotrofismo scusate della cartilagine Dejan epicondrite cronica il gomito come lavorare i trecipiti ottima domanda e la risposta è molto semplice comincia togliendo i lavori di isolamento lo so che è un sacrificio lo so che a livello mentale per te sarà devastante ma cerca di accantonare gli esercizi di isolamento almeno per un po' panne il prescelto front squat al multi power può avere senso sostanzialmente no secondo me il multi power secondo me si presta molto meglio al back squat e non profondo d'altronde esercizio mediocre macchina mediocre il multi power è una macchina per fare pochissima roba secondo me giusto un esercizio disfunzionale come il back squat può essere fatto al multi power ma solo in arco parziale e solo per i principianti e solo in certe fasi del macro ciclo il multi power è molto buono secondo me per i body builder ma non c'è per gli strength power lifter proprio un body builder secondo me al multi power può anche dormirci perché il multi power è molto versatile ma bisogna saperlo usare cosa consigli per prevenire l'usura delle cartilagini innanzitutto calibrare molto bene il volume di lavoro perché anche con la tecnica più perfetta c'è sempre un'usura quando si fanno lavorare i capi articolari se il volume di lavoro diventa eccessivo se si abbassa la soglia dell'attenzione se si comincia a grattare il capo articolare con la membrana con lo spessore di cartilagine concomitante lì state cercando problemi e vale anche per i tendini non solo per le cartilagini ah bene Manuel Rist saluti dall'isola di Porto Santo Madeira ti seguo sempre grande military grazie Manuel grazie mille per seguirmi Mattia Lago sono appena passato al front squat consigli? beh è un esercizio elitario il front squat se cominci a prendere confidenza capirai la differenza abissale con il back squat io ti consiglio sarò di parte ma ti consiglio di prendere delle coaching io sono un ex pesista quindi il front squat lo conosco abbastanza bene io facevo strappo e slancio quindi se vuoi una mano fatti sentire oh torniamo all'alimentazione Francesco Teodoli quante proteine mangi al giorno in alcuni giorni sono arrivato anche a 3 grammi per chilo di peso corporeo però non ho notato sono sincero con te non ho notato grandi vantaggi sull'ipertrofia e di recente ho visto un video di Danny Lazzarin in cui diceva che lui stesso non ha una quota proteica molto alta per me è stata un po' una conferma perché io non ho mai avuto grossi benefici con l'alimentazione iper proteica a tutti i costi ho provato anche a salire fino a io una volta sono arrivato a farmi 3-4 shaker al giorno con 100 grammi di proteine a shaker oltre all'alimentazione normale francamente non ho avuto grandi benefici secondo me c'è una soglia c'è un range di introito proteico che non ha senso sforare se non per far fare un iper lavoro a stomaco intestino oreni e fegato non sono un fan della dieta iper proteica insomma se volete però insistere con questa cosa almeno prendete amminoacidi in forma peptidica magari gli essential amino acids sovraccaricate meno gli organi montori telesmonto news come mai questa diretta mattutina buongiorno beh come è mezzogiorno il diretto di mezzogiorno in fase pranzo ci stanno anzi oh sono già 61 minuti ragazzi è meglio chiudere grande telesmonto ciao luigi braccio ferrista tra poco a valencia per l'arnold classic in arm wrestling davide pacione ultima domanda hai mai fatto o intenzione di fare un video su una routine di riscaldamento pre workout forse si forse farò un bel video un bel tutorial passo per passo su come scaldarsi prima di fare gli esercizi anche se comunque dipende anche da dove vi trovate a livello geografico siete in siberia se è più freddo bisogna fare una routine un po' più lunga quasar guaiamento le uova non le mangi più giusto prima io adoravo le uova quasar io adoravo le uova le uova che preferisco sono le classiche uova sode l'uovo bollito l'uovo bollito in quattro spicchi con olio e sale proprio semplice semplice ragazzi cosa mangi di solito nulla io al mattino bevo di solito faccio pasti liquidi io al mattino faccio pasti liquidi morino falco ciao marco li reputi utili bca sì ma solo in determinati contesti alimentari in altri ancora sono un po' carenti come spettro amminocidico in alcuni contesti vanno perfetti in altri sono un po' un po' scarsi ah sì francesco teodoli quali sono i pasti tipo per colazione pranzo cena eh sì full day of eating per smonto news pure io mi alzo e bevo acqua dopo tre ore poi mangio eh a quanto pare anche i braccio ferristi la vedono come me questo mi rincuora molto esatto quasi siamo in Italia si beve al mattino Marco Pt alla prossima